Ok Off camera Si è fatto questo posto qui al chiuso Con la panchina, non va a finire Quando piove, dici di mettergli a sedere Esatto, perché se no prendi... sei... cioè a freddo Un po' stretto, un po' angusto No, va bene Ti aspettavi il villone ed è Eh, si poteva farvi Se ci era Ho anche un secondo piano, comunque Non occorre espande in larghezza Ma ormai io andrei in altezza C'è traccia dei nemici Li fai andare a trovare? Te lo direi dove sono? Lo so Forse non riescano a trovare la via per salire Perché siamo Un posto abbastanza proteso Abbastanza infatti Ma poi ora il fatto che si è fatta anche la porta Quella più ignorante È più difficile per loro Spaccarla quella porta lì Non è pieno ma venga a casa lo stesso Scusione completata Ottimo Voglio fare un po' tronchi anche Eh fai vai A parte che porta tronchi è meno utile Perché ci sono le carriole Ci sono le carriole Si usano Posso li sempre i tronchetti quando torni a casa? Posso li poi li prende? Eh guarda non so quanti ce ne stanno lì però Butta dentro Si si esce un po' tutta Perché ho finito lo spazio però va bene Si? Si Vabbè È troppo stretto lì capito Nooo ma la puoi espandere comunque Non è che Ormai si è costruito così qui però Puoi buttare giù una parete Tipo questa Questa qui No? Che qui c'è anche il fuoco E' da noi E' allargare un pezzo E' meglio qui dentro A parte di chiusura la panchina Vabbè Lì la città Questo rimane così E' il buon sorso d'acqua No Asserbo domani Non c'è cibo 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 E' il buio Senti, visto che ci sono un sacco di bastoncini e anche un sacco di pf, io faccio la fortificazione Sì, la fortificazione di cose, non andiamo avanti La fortificazione della base, con gli scuzziglioni Capito? Sì Io non so in realtà dove sono, però Guardi per conigli, giardino andrebbe fatto, vedi? Sì, facciamo il giardino Cioè, c'è semi di aloe io, tra l'altro, lo potrei piantare Eh, sarebbe ottimo, sì Ma dov'è il giardino? L'avevo trovato Qui davanti, vieni Pallo te, vai, fa la traccia di giardino No, conviene farlo porti dentro Sì, no, no, lì, lì, qui, qui va bene Ma più c'è, uma Qui lo faccio, vai Tu vuole potto ah io ah lo posso ingrandir quanto mi pare capito forse è troppo piccolo così no va bene così per partire guarda vado subito a piantare anche io ci posso piantare roba ci 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 piantato tutto semigli aloe ci è bastato si è la prima di aspettare che cresca ok bene ci pianta una torcia anche beh le pubblicazioni potete non ascoltano per ora vai se lo spreca i materiali cosa? le pubblicazioni c'è il fatto i tronchetti servirebbero c'è addosso te ma li prendono tutti lì? eccolo eccolo vieni dentro proviamo l'efficazio mi secca ma l'ho buttato giù arrivo aspetta il calmo perché ero stanco capito di stamina guardami sto ammazzato dove stai te? non ti vedo davanti non ti vedo avanti casa grazie purtroppo ho buttato giù una torcia di palla aspetta un attimo ah eh bravo smembralo smembralo così lo mettiamo lì attaccato come monico lo faccio io te fai la torcia io lo smembro vai la torcia dov'è ancora giù aspetta che glielo metti così si può fare la lampada anche ve lo sai non sta arrivando in mezzo ti becco te lo dio non sta arrivando in mezzo ti becco te lo dio se l'ha fatta arrivare qui quel tizio? eh meno male sono abbastanza ben difesi dai si allora vediamo un po' c c testa braccio braccio ok guarda bellino? si calva? si dov'è? aspetta lo vedo qui c'è un altro si 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 ottimo almeno si ci pensano due volte esatto stanno tranquilletti e questo troiaio lo levo di qui che mi fa schifo questo busto questo vai giù schifo io inizio per fame sinceramente chi è? c'è l'altro qui bisogna mantenere la torcia accesa però eh? ah la la torcia una l'ho buttata giù io che sbaglio capito? beh non so se l'hai rifatta la rifaccio io nel caso l'ho messo quasi zero era qui qua poi devo cacciarla domani eh? perchè non è che mi rimasto io anche dove era la torcia? ma fala lì davanti ma dov'era? dove si fala accanto al teschio vai ho detto dove si graffa eccola fuoco rialzato ero lì la rifaccio lì ok a questo punto guarda potrei fare potrei continuare la struttura portapietre ci può servire si si porto bastoncini devo porto bastoncini lì domani eh? faccio ripetere e buttarli qui se c'è un bastoncino ti finisci la costruzione guarda qui l'ho già messo l'ho già preso l'ho già preso l'ho già preso io 30 megalopoli adesso invita anche il duca se vuol venire a gio si lo voglio questi questi sono perennemente accesi capito però il vantaggio di questi è che sono perennemente accesi è un vantaggio perché svantaggio? eh no il vantaggio ti ho detto si 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 è che non c'hai mai da alimentarli è sempre accesi Sì, non è che faccia una grandissima luce, però... Ok, qui ora serve il cibo. Cibo, cibo, cibo. Oddio, i mostri! Sono tantissimi! Oddio! Entra, entra! Entra, entra! Mi fai capire il comando. Stanno buttando giù la porta. Provando a buttare giù la porta. Io sono sopra! L'arco non ce l'hai? Vado a fare le frecce. Non lo so, come si fanno le frecce? Corda? Bastone? No, no, fiume e... Non ho abbastanza fiume. Soltano su, fanno un casino. E' finita la pace, vai. Ho capito, ci hanno individuati. Vado un attimo su con le frecce. Vado un attimo su con le frecce. Ma non ho fatto, sono morto. Sono sull'angolo del precipizio. Grazie. Perda. Beppela! Va giù, va giù uno! Se c'è l'arco, lo spingi, lo spingi giù. Oh, 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 spacca tutto! Pecce no? Fu mio, sai. Ho finito anche i tronchetti. Cazzo. Sono quasi andato giù, eh. Sono anche pochissime, proprio giù. Allora, questi vanno sconfitti. Sì, ma si sconfigano. Ha buttato giù! Sulla porta, praticamente, sulla porta. Colto impreparato, come al solito. Come al solito. No! Vado giù! No, no! Si muovi tutti sempre giù! No, ma sei dentro, ma dai! Come cazzo faccio entra ora? Mi buttano giù questi vini. Entra dentro e chiudi! Dai, cazzo, dai, cazzo! Ce l'ho fatta, pezzetto! Però sono morto io ora. Dove sei? Non vedo nulla, light! Non vedo nulla, light! Sono accanto a te! Lo vedo! Calmali, calmali! Ora piglio la lancetta, che forse spacco meno! È dentro! Schiva, oh! Una bestia! Vai, piccolosi, piccolosi! Merda! Va tutto a puttane! Va tutto a puttane! Giù, 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 giù! Oddio santo, non ci voleva! Ha spaccato tutto lì! Stai davanti! Non vedo nulla! Sono giù! Sono giù! Anch'io! No, è finita! Stai giù anche tu? Sì! Eh, ora è finita! Le spalle... No, non ce la fai! Riavviare! Vediamo... Perché bisogna andare di più rifugio, secondo me? Bisogna stare dentro, tranquilli e buoni! Anche se rascano, qua se ne vanno, secondo me! Ascoltami! Prendi tutto qui! Poi, però qui c'è roba, eh! Medicine, roba da be! Non so se conviene riavviare la partita, eh! Sicuramente! No, arriviamo lì, qui si è morto! Non so bene, no! Ma quella che è lontana da qui, eh! Mmm... Nii! Un sacco di roba c'è qui! Altro che seghe! Allora va! Molte medicine! Ottimo! Raccolto, medicinali, raccolto... Io non riavvierei! Intanto si recupera tutto! Io sono tutto piano! Prendiamo la base, vai! Per recuperare la roba! Andiamo! Calma, attenta al dilupo lì! Ce la faccio, ce la faccio nel suo problema! Dilupo! Un altro! Eh, questo è lavoro! Però qui... Qui... Qui serve... Serve l'acqua! Calma! Questo la botta anch'io, chiaramente! Andiamo! Uh! Uff! Qui se ci beccano, sono cazzi amari! Eh sì! Non vedo nulla io! Sto passando completamente alla buia! Cioè, dire è finito, tra l'altro! Guarda che lontanuccio la base dall'area, non ti credo! Vado proprio alla scena! Aspetta! Aspetta! Non avanzare! Aspetta un secondo! No, sono qui! Control! Meno male alveggia, guarda! C'è l'ho addosso! Non mi ha visto perché l'imbecille! Mi è stato tutto sulla testa e non mi ha visto! Scappa dai! Vieni alla base davvero! Importantissimo! C'è il mostro! Vieni via! Sto cercando di scappare e ci sono dietro comunque! Vieni a cambiare colore la casa! Dov'è la nostra base? Qui continua a essere buio nel bosco, nonostante alveggiato! E' la casa quella viola o gialla? Siamo arrivati! Ehi! Quindi si può salire! No, no! Si può salire! Fermi! Fermi! Segui me! Lo sai da dove sta lì! Segui me! Da qui! Si sale! Ci siamo! Ci siamo! Però c'è i mostri! Chiaramente! Dentro! Ne ha uno dentro! Ah! Ne deve fare anche le scalli eh! Vieni! 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 No! Fallo venire via! Fallo venire via! Mi sono andato giunto! Ah! Ma hai accettato eh! Se sbaglio! Vai! Mi sono buttato sotto la getta diciamo! Abbiamo recuperato tutti! Allora mi devo lavare! Devo scendere giù! Qui bisognebbe costruire delle scalli! No! A parte se non si può andare giù da qui! Ma c'è anche l'acqua vicino alla fine! Guarda! È veramente ottimo questo posto eh! Recuperare oggetti! Non i miei! Ho recuperato tutto! I miei ci sono! Wow! Guarda quanta roba ciò ora! Alcolici! Bevande! No! Perché te hai preso la mia roba! Scusa! No! Cosa tu dici? È quello che hai recuperato nell'aereo! È quello che hai recuperato nell'aereo! Ah! Giovane! Wow! Bellissimo! Ora c'ho tre medicinali! Tre! Tre medicinali! Tutto rotto! Vabbè però! Io uno! Un medicinali! Però c'ho il codice! Sì! Perché sull'aereo per farti ripartire ti ci droppano qualcosa! Meno male! Meno male! Abbiamo sfruttato bene questo drop! Ora! Qui cos'è che ci hanno buttato giù? La torcia! Come al solito! L'arco ce l'ho! Lascia ce l'ho! Sì! Anch'io! Ho l'arco ma non ho le frecce! Per questo mi manca però! Il bastoncino potenziato! Cos'è il bastoncino potenziato? Passa una secca! Guarda che meno fregge un cembre torce! Butta le pietre vedi se ci vanno! Allora! L'hanno buttato giù il trampino! Le scale! Vanno rifatte le scale! Anche il fatto di coltivare la lò è un bel aggancio eh! Eh sì! Qui vanno rifatte quindi! Qui c'è un cadavere! Sarebbe da fare... Un'altra pendina sai? Sì! E... Facciandolo! Io ti faccio le scale! Che dici? Vabbè! Sono cannibali! Non lo so se li puoi mangiare credo... Quelle lì eh! No! No! Bene bene! Bene! Io ti faccio i tronchetti! Vieni aiuti a fare le scale! Vieni aiuti a fare le scale! Beh! C'è qualcosa qui! E staccati, non riesco a staccargli la roba quando mai Si, si, no, a diritto Non faccio niente, preoccupate, allora vieni io a fare le scale, come ti pare? Ma vabbè, fate le scale, il marciano è In realtà non mi basta forse nemmeno legna che abbiamo per finire le scale La porta così è molto più resistente, non l'hanno nemmeno scalfita, eppure ci hanno picchiettato dentro Anche ci ho picchiettato un po' Repair tool bisognava fare Bisogna vedere come farlo E domani bisogna fare bastoncini eh Tutto le ho fai, le ho cacciato a bastoncini, sono rimasto senza niente davvero Vai, hai ricostrato, recuperato tutte le scale eh, abbiamo ricostruito tutto Ora, si, vediamo quest'orto v come funziona, quanto ci vuole perchè cresca l'alove Ho un minimo visto che è già venuta fuori Eh, si, 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 è già venuta fuori un po' Come niente Eh, bastoncini devono risparmare Vola così però eh, siamo abbastanza organizzati ora Si, si, si Rifugio abbastanza stabile, si, è fatto bene Svuotati eh, quando sei pieno devi mettere lì a posto, che si accumulano almeno Certo, certo Ora è, mi interessa anche un posto abbastanza certificante per loro eh, perchè Esatto Scusa, stavo spaccato Scusa, stavo spaccato Che dici? No, lascio perdere No, perchè non trovo battute alimentate, se riuscissi a fare il coso Il lampadario, forse quello rimane sempre acceso Fiume, 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 devo rifare anche le frecce io, o pigliale fiume? Eh, si, pigliale Penso che, da ora in poi, ogni nottato avremo degli attacchi, quindi conviene dormire quando Uno può Chi sta? Ma perchè ne hai seccato gli denti e mi metto un cazzo a me? No, perchè, boh Allora Io sono pieno di rocce e bastancini No 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 Le pietre, eh, è pieno Vabbè Questo cielo che una bella rapada Il lampadario è un teschio Ce l'hai un teschio? Si Penso di si Metteteli sul lampadario, vai quando puoi Dentro al coperto Ehm Bellissimo Bellissimo Bello, l'olio è sempre acceso Spettacolo E' un altro pin che l'ho fatta anche tenenza a Toscala Ce l'hai ancora te? Te eschi? Si Penso di si Almeno, come vedete? Si, ce l'ho tre Deve fatto la corda, aspetta eh Costoso la corda Ora ci mancherebbe un po' di legna ma in realtà non è così essenziale Abbiamo tutto a parte il cibo Allora se vuoi possono andare a fare una spedizione nel loro villaggio Che c'è un cassino di valigie E' Un cassino di roba da prendere Si, potrebbe essere ottimo Due lenti ce l'abbiamo eh? Vabbè Manca due lenti per fare la panchina dentro, guarda La volevo fare prima di uscire Beh, allora facciamola Ah, mi ha fatto un'altra Bravo Sottoscala Spettacolo Esatto Eh, due Infatti, vabbè, si potrà tenere l'aperto laggiù, vabbè Dove sei? C'è questa della legna eh Poi ogni tanto riportati sulla panchina In un attimo arrivo per i trucchi No! Ho pescato giù Vabbè C'è dovrei mangi... non è che sono prontissimo per andare laggiù eh? Mangia te Da cosa fa delle cose che io non gli chiedo di fare questo menino del cazzo Si eh? Andiamo vai, andiamo alla loro base Ah faccio della legna buttata via Eh, è rimasta via da un racconto di te l'avevo detto Tre, dove deve essere Aspetta un attimo, la metto lì così si vede Questa è la base allontana, fa certo effetto Sì, sì, è grande, è vero Ok, ci siamo Andiamo, di qua Aspetta, la metti, la metti Beh, che lì mentino va Comunque, ci arrivano ma meno, vuol dire che Non so se poi aumentano, mi sa che aumentano sempre di più È più semplice stentiarli però così, perché è uno spazio più gestibile, capito? Sì, 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 ma infatti no, ma poi bisogna fare pesce, cioè vi dovrebbe capire no Usando la torretta, gli sbricioli, se c'è tante pesce, gli sbricioli Poi bisogna migliorare l'arc e tutto un po', ah, questo è il loro villaggio? Sì, qui ci sono, te lo dico, quindi preparati Due tessuto, ho già trovato, che è già buono Guarda, spacca vesti Eh, danno tessuto, il tessuto è ottimo Anche questi Anche i teschi danno, ho capito? Anche i teschi sono utili Questa che roba è? Tessuto, vedi? Un occhio di tessuto Ora arrivano, io te lo dio, eh Sì? Per forza, questo è il loro villaggio Ci sono per forza Eccoli, eccoli, stanno arrivando, eh Te lo dio Sono laggi in fondo, dritto davanti a me Sì, è vero Però se noi dovremmo riuscire, te dove stai Dovremmo riuscire a sbriciolarli lì Almeno loro capiscono chi comanda, capito? Sì, sì, sì E noi ci cosiamo del loro villaggio Pessuti, guarda là, sono utilissimi Oh, dietro c'è un altro gruppo anche lì Eh Sono tanti Questa va messa subito a scu... Oh, cazzo Ma ho preso solo di letto Allontana un attimo, mi devo curaio Merda Perché ho preso po' anch'io Vieni via, vieni via Ho preso po' ho preso po' ho preso po' Merda, merda, merda Allora, dove stai? Allora Allora Hop, hop Ok, si batte Fino a che sia E qui di nuovo Morta 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 No, no, sono giù Sono giù Io sono giù Attenzione No Attenzione Scappo, scappo, scappo Non vuoi provare Questo è meglio Sì, sono giù Scappa, 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 scappa Morto, sono giù Non ce la faccio a finire Ce la fai Ce la fai Ce l'hai tutti lì appicciato addosso E te lo vedrai Fai tranquillamente Ristai un attimo Vai, ora scappa eh Io sono quasi morto Quasi morto Quasi morto eh Quasi morto eh Guardio Scappa, scappa Sto scappando Anch'io Però, attenzione Cerchiamo di non farci seguire alla base eh Ma guarda Non è così Una brutta cosa in realtà Forse li sviscioliamo alla base Non so se è buono Ce l'ho addosso Ce l'ho addosso tutti Addosso Ce l'ho addosso Vieni verso l'acqua Vieni Non c'è andata la base Davvero È stato un pendio io Capito No, l'ho seminato L'ho seminato L'ho seminato Con molta calma Probabilmente Sarai sporco di sangue No, io non ho Bellissimo Io ci fai un bel tuffo eh Ho paura di tuffarmi da qui Però, in cambio Ho recuperato un sacco Oddio Casco Giocan Dove sei? Mi sono tuffato Bellissimo Ma io non vengo No, vieni 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 a vedere Vieni a vedere Ci fa un bel tuffo Vieni, non è che si può sempre Pensare ai zombie Dai Vieni a godersi l'isola Vieni a godersi l'isola Vieni a godersi l'isola Vieni a godersi l'isola No Cioè io ora salto qui Vieni in punta lì Guarda C'è questo scoglio Vieni fatta Può stare a saltare Ma poi Come ci si ricollegga Ah, c'è la spiaggia là Vado eh Vai, vai Bellissimo Qui ti saldi È un punto di salverti dagli zombie Capito? Eh sì, sì Può saltare nell'acqua Che ti prende Vedevo di te Ah no, non puoi L'ho fatto fa Perché ho toccato il fondo Scusa Bisogna più forte Trovare qualcosa da mangiare Vieni a piedagna E buonanotte al zecchio Eh, se arriva lo squalo Non dovrebbe stare vicino Oh Dio Ho trovato Ho trovato Una grotta sotterranea Forse Cioè Sottomarina No, no Era un'illusione Era un'illusione Ho voluto far fa' una bella notata Trovare Cacciagione Cacciagione Capito? La base comunque è ben protetta Sì, sì È ottimo È ottimo Non è facile venire su No, lì Ci monti tranquillo Però qui C'è bisogno di cibo Urgente Abbiamo recuperato qualcosa Comunque Quello è pieno L'aloe è pronta L'aloe Può raccogliere Aloe Finace Bene E ti danno i semi anche, sì Non lo so Li raccolti? Sì Semi di aloe, sì, sì Raccolgo e mi do anche il seme Ripianta? Sì Eh, il seme lascio L'impiantato, l'impiantato Ok Che luce, che luce ci vuole qui Ci vuole le torci Qui Vabbè Non è ancora buia È uguale Ma per dopo Sono tanti da giù Enzo È difficile Andarci con le molotov Con le molotov Andarci Io le potrei fare Però non è semplice Nemmeno lanciarle Io devo mangiare Per forza C'è nulla da mangiare Non so se c'è qualcosa Lo vedessi Riusciva ad andare avanti Vì per la struttura Ovviamente è bello Sto posto, sì Ho scelto un'ottima Un'ottima punta Per fare la base Esatto Devo a tutti i costi Ma qui quanta legna c'è in terra Eh, ce la sto portando io Un po' l'ho trovata sotto la spiaggia Un po' l'ho trovata più avanti di prima Bisogna fare una costruzione Per forza Facciamoci qualcosa Facciamoci qualcosa Quella lunga qui La spallevata lì Capisci no? Sì, 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 sì Decisamente Sì, sì, sì Ah, ritrovalla Non ci riesco mai in cazzo Questa mente Potrebbe fare un baracchetto Un baracchetto isolato da Tipo un avamposto Tipo una rosa così Tanto guarda Lo posso annullare Un affare del genere Tipo per emergenza Non saprei come usarlo Tipo così Tipo così Guarda Un baracchetto del cazzo Che dici? Sì No, no Forse No, no È meglio quello che stai facendo a te Guarda La sottata Vabbè Comunque un baracchetto Si potrebbe anche fare poi Magari anche lì Accanto Ai campi Qui l'hai appicciata proprio No, ho sbagliato G Ah, no Troppo alta Vedi Ho perso tutto No, ho perso nulla Ho buttato un cronco E ne ho ripreso uno Sì Sì Rifalla vai Falla a modo O se no la faccio io Dimmi te Un po' Leggermente più alta Nulla Sì, va bene Va bene Va bene così No, è Vabbè È di merda Va bene No, va bene Va bene Va bene Guarda che sta funzionale Ora dormirei Semplicemente dormirei E basta Appena è buio Presto Guarda che Sono ottime le lampade Sì, sì Guarda Qui accendere tutte le torce Esterne anche Messo farne sul fuoco Ha fatto un uccellino Alla grande Fiume Fiume Volicchiano Presto 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 Vai Ho acceso tutte le torce Guarda che spettacolo di base Ora dovresti venire A vedere da fuori Aveva messo uno spettacolo Sto illuminata Da lontano Allontanati un po' Tanta roba Poi chiudo il video Perché si è portato tantissimo Ora vedo se fa due puntate Sì, sì, sì Inizia a essere una struttura importante Arrivederci Grazie a tutti